Tecniche sofisticate per rubare l'auto fanno il loro ingresso anche sulla costa. I carabinieri di Termoli hanno sventato il furto di una BMW di grossa cilindrata che era stata sottratta grazie a un dispositivo particolare, il Jammer Protector, un disturbatore di frequenza in grado di disattivare l'antifurto satellitare. Un rettangolo d'arciaio con sette antenne montate, capace di annullare il segnale del GPS per un raggio di 500 metri e che non è facile reperire sul mercato. I carabinieri del nucleo operativo Radiomobile lo hanno trovato all'interno di una BMW che a grande velocità sabato notte si dirigeva verso la Puglia. È nato un inseguimento che si è concluso sulla Statale 16 a Campomarino, alla guida un ragazzo di 26 anni di San Severo che è stato arrestato per furto aggravato. Hanno forzato la serratura del lato del guidatore, dopodiché hanno smontato le guarnizioni della portiera e hanno trovato l'ingresso del jack per copiare i codici della chiave elettronica che tutti i veicoli hanno. Sicuramente sono gente esperta del mestiere che ha lavorato anche nell'ambito delle officine meccaniche perché non tutti sanno dove andare a trovare l'ingresso dei codici. L'arresto del giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato convalidato e ora il 26enne si trova ai domiciliari. È stato lui ad ammettere l'uso del dispositivo per rubare l'auto e che in versioni più sofisticate viene usato anche dall'esercito in missione all'estero per disattivare ad esempio le bombe al passaggio dei mezzi blindati, come ha spiegato il maggiore Fabio Ficuciello. È una tecnica particolare che denota anche l'alto grado e il livello di specializzazione che è stato acquisito da questi soggetti che in genere provengono fuori aria, fuori molese e si regolano qui e soprattutto nella zona di termoli per sottrarre illecitamente le auto. Ma in questo caso li è andata male perché il controllo capillare del territorio da parte dell'arma di carabinieri, attraverso un dispiegamento di pattuglie in tutta l'area di competenza, ha permesso quindi di individuare, fermare e arrestare il soggetto. È fondamentale la collaborazione dei cittadini, per noi sono necessarie le informazioni. Proprio per questo motivo invito soprattutto i giovani quando rientrano la notte a casa in quanto questi furti vengono consumati soprattutto nell'arco notturno di riferirci se notano qualcosa di sospetto. Non bisogna scendere a patti anche quando si verificano i cosiddetti cavalli di ritorno, non bisogna accettare i ricatti ma c'è soltanto una cosa da fare, chiamare le forze dell'ordine.